Angelina Mango, figlia del cantante Mango, sta facendo parlare di sé, nella scuola di Amici 22, per la sua bravura e l'amicizia con Wax. Tuttavia, in realtà, è fidanzata da tempo con il chitarrista Antonio Cirigliano. Angelina Mango, vita privata, il suo fidanzato è il chitarrista Antonio Cirigliano. Nonostante le critiche ricevute per essere entrata da Amici, solo perché figlia di un famoso cantante, Angelina Mango ha dimostrato tutto il suo talento e si posiziona tra le concorrenti più accreditate per la vittoria finale. Recentemente, sono circolati dei gossip, riguardanti una possibile relazione tra Angelina e Wax. Ma Maria De Filippi ha smentito queste illazioni, durante l'ultima puntata del programma, precisando che i due ragazzi sono solo amici. Il vero fidanzato della giovane artista è Antonio Cirigliano, un chitarrista originario della provincia di Potenza, con cui Angelina ha stretto un forte legame, sia a livello sentimentale che artistico. Infatti, i due hanno suonato insieme in diverse occasioni, come nel concerto del primo maggio dello scorso anno. La morte improvvisa del padre di Angelina, Pino Mango, avvenuta durante un concerto nel dicembre 2014. Ha rafforzato ancora di più il legame, tra la cantante e il suo fidanzato, che l'ha sempre sostenuta nei momenti difficili. In conclusione, Angelina Mango è impegnata sentimentalmente, con Antonio Cirigliano e la loro relazione. Va ben oltre la vita privata, essendo basata sulla passione per l'arte e la musica. Angelina Mango, come è iniziata la sua carriera artistica? Angelina Mango, figlia del compianto cantautore Pino Mango, è la nuova allieva di Amici 22. La giovane artista è entrata nella scuola, attraverso una sfida e ha subito attirato, l'attenzione del pubblico. Ma chi è Angelina Mango? Scopriamo insieme la sua biografia, vita privata, carriera e presenza sui social. Chi è Angelina Mango? Angelina Mango è nata il 10 aprile 2001 a Maratea, ed è del segno dell'ariete. Ha 22 anni e vive a Milano dal 2016. È la figlia di Pino Mango e Laura Valente, entrambi cantautori. Angelina ha un fratello di nome Filippo, che suona la batteria. La giovane artista ha già alcuni tatuaggi sul corpo. Vita privata. Fin da bambina, Angelina ha mostrato una grande passione per la musica. Ha imparato a suonare il pianoforte, e ha iniziato a fare della musica il suo lavoro. La cantante è presente su diversi social, tra cui Instagram, Facebook e TikTok, dove condivide i suoi progetti musicali. Carriera. La carriera di Angelina Mango è ancora molto giovane, ma vantaggia dei concerti e un album. La cantante ha aperto i concerti di artisti come Giovanni Caccamo, e ha collaborato con Tiziano Ferro e Nashley. Le sue influenze musicali spaziano dal rap italiano e americano, all'R&B e alla musica strumentale. Angelina Mango si è anche esibita sul palco del primo maggio. Sanremo Giovani. La giovane artista ha già dimostrato di avere un grande talento, e di essere pronta a fare grandi cose, nel mondo della musica. Non tutti sanno che Angelina ha partecipato anche a Sanremo Giovani, ma non è stata selezionata tra gli otto finalisti. Vi piace Angelina come artista? La trovate completa? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per SPEAK little di fatto. Metti mi piace, e magari come artista studio, per incutture. Metti mi piace, è piaciù, eml! Metti mi piace, sia piaciuto! Segue! Grazie.